Buongiorno e ben ritrovati a tutti cari telespettatori di FanoTV, oggi è lunedì 11 gennaio 2021. Siamo in diretta, sono le 7 del mattino e siamo qui per sfogliare, dare un'occhiata, ma commentare soprattutto le pagine dei quotidiani che abbiamo selezionato per voi questa mattina. I quotidiani, vi sapete, ormai sono il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Andiamo però prima a vedere il santo del giorno, poi le previsioni del tempo. Oggi è Santigino, il sole inizierà a sorgere alle 7.44 e tramonterà alle 16.53. Adesso andiamo a vedere il tempo. Ancora in mattinata precipitazioni diffuse, graduale attenuazione dalle ore centrali, le nevicate attorno ai 400 metri, localmente anche a quote più basse nei fondovalle. Questa mattina intorno alle 5.30 fanno qualche fiocco, neanche fiocco, insomma mista pioggia, insomma via. Martedì 12, domani avremo temperature senza variazioni di rilievo, intanto quindi ancora piuttosto fredde, ma non ci saranno precipitazioni. Poi il tempo migliorerà nel corso della settimana. E adesso i giornali, cominciamo dall'apertura del Carlino di Pesero. Una VL da sogno, questa è la fotonotizia, torna tra le grandi, batte Brescia e si qualifica per le Final 8 di febbraio a Milano. Vaccini, medici danno l'esempio, sottoposti a profilassi 408 sanitari. Una dottoressa dice, è un dovere morale anche verso i pazienti. E poi la cronaca, è finita la lunga fuga dell'Audi, in manette due magrebini, recuperati anche tre etti di cocaina. Nell'inseguimento un carabiniere era rimasto ferito. Focolai in ospedale a Durbino, la regione allerta, la protezione civile inviate i rinforzi. A Fano continuano i tamponi di massa su 3.000 test, scovati 18 positivi. Ancora lo Sport con il Fano che vola anche in 10. A Trieste fa il miracolo, vince 1-0 appunto contro la Triestina. Mentre la Vis batosta da paura e il Mantovan è in fila 4. Il carino di Ancona, ti bruciamo la casa. Minacce all'assessore, regione nel mirino, la posizione anti-aborto di Giorgio Alatini. Cartello shock davanti al consultorio, immediata la sua replica, incitano la violenza, non hanno a cuore la libertà delle donne. La condanna del governatore Quaroli, rifiuto questo attacco, le indagini a Macerata. Vendetta e noia allerta sui social, ecco ritroscena della Maxi Rissa sventata sabato in centro, intercettazioni sulle chat e militari in Borghese. Corriere Adriatico, gli ospedali tornano sotto stress, preoccupa soprattutto la situazione in Urbino. In piena emergenza Covid, ha allertato anche il governo, le Marche da oggi in giallo ma già in zona rischio. Ciccioli positivo, contatto con un collega medico. Centropagina, l'AVL in Coppa dopo 9 anni, battuta Brescia 98-88, Pesero alla Final 8. E poi sotto, neve nell'entroterra, disagi per i blackout, a Cagli oggi niente scuole, inseguimento shock, due arresti, tre etti di cocaina sequestrati, multa in lockdown, la metà non paga e molti ricorrono. Mentre Pino riapre, anzi l'Alexander per i pesaresi, l'albergo e rilancia l'offerta soggiorno. Ma di spalla c'è anche la notizia che riguarda oggi l'aeroporto con il dietro front di Ego Airways e il sorpasso di Kairos Air. Sono due compagnie aeree, tutte e due italiane, una che già è partita, l'altra marchigiana che dovrà partire. Vedremo tra poco di che cosa si tratta. Intanto cerchiamo di fare un attimo il punto della situazione, anche perché non ci stiamo capendo più niente. Anche entrare semplicemente o parlare con le persone, ascoltare un po' quello che si dice. Quando per esempio una persona entra in un bar, spesso si sente dire oggi che cosa posso fare, oggi di che colore siamo. Non ci stiamo capendo più niente, neanche noi lo sappiamo più se siamo e di che colore siamo. Quindi che cosa possiamo fare e che cosa non possiamo fare. Di certo, una cosa è certa, le tre cose che dovevamo fare non le abbiamo fatte. Solo tre cose dovevamo fare, al di là dei colori. Stare distanti l'uno dall'altro, portare la mascherina, igienizzarsi le mani. Non lo abbiamo fatto e i risultati sono quelli che abbiamo sotto gli occhi di tutti. E quindi l'Italia come va avanti a forza di DPCM, decreti e quant'altro. Adesso ne sta arrivando un altro, siamo a pagina 3 del resto del Carlino, stretta sui parametri, così le Marche rischiano addirittura il rosso. Nel Mirino c'è l'incidenza settimanale dei contagi, è già stata sfiorata la soglia limite dei 250 ogni 100.000 abitanti, 13 vittime nella regione Marche e 687 nuovi casi, 176 nel Maceratese. I ricoveri sfondano quota 600. Capite che con questi numeri il giallo è soltanto l'indicazione che sta per arrivare. Un po' come succede quando si va in macchina, il giallo indica che sta per arrivare il rosso e non il contrario. Quindi non facciamo illusioni e quindi probabilmente tra qualche giorno, insomma da sabato prossimo, ritorneremo in lockdown stretto. Quello che più si teme riguarda lo scatto automatico, come abbiamo detto, della zona rossa. Al Covid hospital, quello di Civitanova, ci sono 52 pazienti, 48 nella palazzina Covid di Macerata e 16 invece a Camerino. Da oggi, come dicevo, siamo nella zona gialla. È inutile dire cosa si può fare e cosa non si può fare, tanto ognuno qua fa quello che vuole e poi i risultati sono questi. Tre cose dobbiamo fare, ricordiamocelo, al di là dell'andare a fare la spesa o no, tre cose, ma non le abbiamo fatte. Ecco il nuovo DPCM, giro di vite per i bar, quindi continuano ad essere tartassati i baristi, i ristoratori, nonostante tutto, cioè nonostante il fatto che pur essendo chiusi i bar e i ristoranti, i contagi aumentano, quindi evidentemente il problema non è nei bar o nei ristoranti. Ma, questo lo diciamo noi, evidentemente quelli del Comitato Tecnico Scientifico hanno dati sufficienti per poter agire in questa direzione. Di vieto assoluto di spostarsi tra le regioni, il Governo ha pronta la bozza, misure in vigore fino al 7 di marzo, addirittura qui non usciremo più vivi, nasce la zona bianca, stato d'emergenza prorogato fino al 30 di aprile. Ora, questa è la situazione, ma andiamo avanti. Più contagi, ricoveri su Marche oggi in giallo, ma già in zona a rischio. L'incidenza settimanale dei casi ha già oltrepassato la quota 250 per 100.000 abitanti. Superate le soglie di allerta sia in terapia intensiva che in area medica, ci sono altre 13 vittime più o meno, quello che abbiamo già visto sul resto del Calino. Intanto, per farvi capire un po' come stanno andando le cose, non basta mettere il naso fuori dalla porta e andare a Urbino, quindi a due passi. Ospedale al collasso, allertato il Governo, la Morani dice non si perda un minuto in più, la sottosegretaria allo sviluppo economico chiede ripristino di cardiologia e di rianimazione. Aiuteremo la Regione, perché il problema vero non è soltanto il Covid, come ci diciamo ormai da quasi un anno, perché è un anno che stiamo dietro a questa storia, ma il problema è che si continua a morire anche di altre patologie. E quando si chiudono rianimazione e cardiologia, capite che se uno che sta a Urbino o lì attorno ha un problema al cuore o deve essere rianimato, dove va? A Urbino no, perché sono chiusi, quindi deve fare tanta, molta più strada. E quindi sappiamo che quando il cuore ha bisogno di essere soccorso, ogni secondo che passa è un problema. E quindi pensiamoci su queste cose, ma evidentemente ormai siamo talmente storditi che non riusciamo più a comprendere nemmeno dove siamo. Ciccioli, positivo al Covid, se non mi avessero avvisato non mi sarei accorto di nulla. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione dice ho dovuto fare il doppio tampone. Lui dice non ho nessun disturbo, però sì, sono positivo. Ho avuto un contatto indiretto con un collega medico che mi ha chiamato ieri mattina, mi ha detto Carlo guarda sono positivo, io non sento niente, ma al dubbio sono andato a fare un tampone antigenico in un laboratorio privato, l'esito è incerto, però poi dopo ha fatto quello molecolare, insomma alla fine è venuto fuori che è positivo. Dice lui Ciccioli ho incontrato tanta gente, centinaia di persone, ma insomma questo è il racconto che ha fatto da Andrea Taffi sul Corriere Adriatico di stamattina. E qui mi soffermerei un attimo perché è importante anche riflettere, al di là della lettura dei quotidiani a pagina 10, a pagina 10 c'è e vi segnalo questa intervista che Massimo Couto ha fatto a Enrico Ruggeri, tra l'altro Enrico Ruggeri lo diciamo sempre quando parliamo di lui, Enrico Ruggeri è colui che ha scritto quella bellissima canzone, canta quella bellissima canzone che è il mare d'inverno ispirato al mare di Marotta, cittadino onorario di Marotta, oggi è stato intervistato e parla del rifiuto della morte, il rifiuto della morte che ci impedisce però di vivere. Ruggeri il ribelle, attenzione non fatevi ingannare però dal titolo, il ribelle sì, ma non negazionista, tant'è che lui dice ma che per il mio lavoro faccio un tampone ogni tre giorni più dei calciatori, quindi non è assolutamente negazionista, anzi è uno che appena può farà il vaccino. Ma sentite che cosa dice, mi sono segnato queste domande e queste risposte. Allora, vuol dire che non accettiamo, la domanda di Couto a Enrico Ruggeri, non accettiamo più l'idea della morte? Sentite cosa risponde Enrico Ruggeri, milanese, 63 anni. Il punto è questo, l'uomo è l'unico animale consapevole della propria finitezza, la scienza insegue l'immortalità o quantomeno il modo di allungare la vita. Frankenstein è il simbolo di un'eterna ricerca, ma non si può vivere ad ogni costo e a un certo punto si scende dalla giostra, concetto naturale però che oggi rifiutiamo. Domanda, una rimozione? Risposta, usiamo la parola morte in senso figurato, la mano morta, il binario morto, il tiro a foglia morta. Se un essere umano muore, invece diciamo si è spento, è scomparso, ci ha lasciato, aggiungerei io, eccetera eccetera, potremmo andare avanti. E la fede? Sentite qua. La religione domanda, la risposta è di ricoruggere, la società è secolarizzata, la chiesa dilaniata non sa più essere consolatoria, la proposta della vita eterna è un'idea alta che si schianta contro crisi di vocazioni, scandali sessuali, appropriazioni in debite. E poi l'intervista va avanti su altre pagine, due pagine a questa intervista, su questa intervista molto interessante. Allora, ecco qua, guardate un po', sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, si presentano famiglie intere, la positività è ancora in calo. Ieri disposto l'isolamento solo dello 0,6% dei testati, l'Asur dice aumenta la consapevolezza. Tante famiglie alle postazioni per l'indagine gratuita di massa su un contagio da Covid-19 a Fano e nei quattro comuni vicini, perché ricordiamo, tra l'altro, che c'è anche Cartoceto, da oggi, Monbaroccio, Mondolfo, poi c'è anche San Costanzo. Insomma, questo per dire come presentandosi le famiglie intere forse si è arrivati ad un punto di consapevolezza, a un grado di maturazione, diremmo noi, che ci consente, insomma, di sperare. Sperare, ma forse un po' troppo tardi. Soddisfatto il sindaco di Mondolfo, Marotta, registriamo la più alta partecipazione. Andiamo sull'altra pagina, invece, questa volta il Carlino. Virus, lo screening rallenta e oggi tocca agli studenti. Nel senso che c'è stata un po' meno affluenza, però mettiamoci anche il fatto che era il tempo assolutamente brutto, la pioggia, il freddo, insomma, il fatto che fosse domenica probabilmente, insomma, il maltempo comunque scoraggia. Il contrapersone si ferma a 2.952, di cui 2.245 a Fano, dopo due giorni sopra i 3.000. 18 le persone trovate positive, si parte adesso invece con le scolaresche. Ora, oggi e domani intanto, attenzione, saranno attivate con lo stesso orario, cioè 8.13.15.19, due postazioni al ristorante La Tagliata per gli abitanti di Cartoceto e di Monbaroccio. Queste indicazioni sono importanti perché da oggi si parte anche con questi due comuni, il comune di Cartoceto e il comune di Monbaroccio. Ora, dal 16 al 21 di gennaio si partirà poi con i comuni di Colli al Metauro, Gabice Mare, Gradara, Mondavio, Monte Calvo in Foglia, Monte Felcino, Monte Labbate, Monte Porzio, Petriano, Tavuglia, Terre Roveresche, Vallefoglia e basta. Quindi, ecco, questi sono i punti. Intanto oggi Fano continua, Fano e tutti gli altri che già hanno iniziato i tamponi nei giorni scorsi. Ecco, quindi proseguirà anche oggi e anche domani. Quindi mi raccomando, chi può faccia questo controllo. Intanto sul Nerone, sul Catre, in Carpeggio c'è una marea di neve, diciamo, oltre un metro di neve in queste ultime ore ne ha fatte tantissima. Gli impianti di sci, ma non solo qui nel Pesarese, anche giù, Bolognola ho visto, ce n'è veramente davvero una montagna di neve. Impianti di sci, Chance, però sono a Lumicino. Perché? Perché si doveva riaprire il 16 gennaio, ma probabilmente, insomma, la repertura è al 18 gennaio. Tra l'altro era stata già spostata, perché dal 7 si era portata al 18, ma probabilmente slitterà. Adesso non c'è ancora nulla di ufficiale, ma, insomma, probabilmente non si riapriranno gli impianti sciistici della nostra regione, nemmeno il 18, perché, appunto, come dicevamo, la situazione non è un granché. C'è ovviamente tanto scoramento, tanto avvilimento nelle stazioni, soprattutto del Maceratese, e qualcuno dice proprio quest'anno che avevamo la neve. Eh, va bene. Così è stata sventata, invece, la Maxi Risse in centro. Ora, in questi giorni, i telegiornali nazionali si stanno occupando di queste bande di giovani, per lo più giovanissimi, che si danno appuntamento così e poi se le danno di santa ragione. Un modo per sfogare la frustrazione, la rabbia. Poi i psicologi si stanno, in questo momento, scatenando con tante dichiarazioni sul perché e per come questi giovani fanno queste cose. Intanto, vedete, nei giornali, qui siamo nei giornali delle Marche, è stata sventata una cosa simile, già che si stava organizzando attraverso il web, ad Ancona. Da Macerata sono partiti per andare ad Ancona, si infuocano le piazze, qui siamo a pagina sede del resto del Carlino, botte tra giovanissime anche a Parma e Sant'Arcangelo, poi video subito sul web, per le violenze di Gallarate, denunciata una ragazza di 18 anni. Mentre, tornando qui nelle Marche, ecco, siamo nella pagina di Macerata, attenti ci sono gli sbirri, e scatta la retata. Spedizione punitiva ad Ancona, i sette ragazzini maceratesi fermati dai carabinieri in Borghese, in Piazza Roma e sotto la Galleria, un sedicenne trovato con un coltello, col coltello dalla lama di 19 centimetri, e spunta anche della droga. Il patto fra le baby gang, titola invece il Corriere Adriatico, c'è un torto da vendicare, preso il boss di 16 anni, addirittura boss di 16 anni, l'appuntamento intercettato sui social, caccia i ragazzini terribili, tra la folla in centro, occhi agli sbirri, fermati in sette, uno è Magrebino di Ancona, che ha chiesto rinforzi. Ora, sul vaccino, medici in fila, tra attese ed elenchi, siamo nella pagina di Pesaro del Corriere, ora tocca ai farmacisti, oltre 400 dottori, nella prima giornata con code, nonostante le fasce orarie, intanto una situazione sempre più critica, tra il numero di positivi e di ricoveri. Alle 8.30 al Palace Senigallia, inizia lo screening, non l'abbiamo ancora citata Senigallia, ma oggi tocca anche ai senigalliesi, sono tanti quelli che ci seguono ogni mattina. Allora, appuntamento anche per voi, aggiunti altri test per soddisfare tutte le richieste, perché la lista si è conclusa in 4.48, a Barbara crescono i contagi, ed è allarme. Anche per voi, questa mattina, 8.30 si inizia, oggi potranno aderire a questo screening, tutti i residenti e non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio, nei comuni di Senigallia, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra o Stravetere, e tre castelli che hanno ricevuto la mail di conferma, dopo aver prenotato attraverso il link, o con i seguenti numeri, o con i numeri del telefono messi a disposizione. Quindi non potete andare così all'improvviso, ma dovete avere la risposta. Intanto da Pesaro riapre Alexandre Vittoria, pesaresi venite come ospite, il Conte Pinoli rilancia le sue idee per la sopravvivenza degli hotel. Multe in lockdown, e già, perché ci sono le multe, ma poche le persone che le pagano, e quindi poche anche le riscossioni. Più della metà non ha ancora pagato, è una percentuale altrettanto alta, ha deciso di presentare ricorso in giunzioni della Prefettura. Dunque le multe per chi si sposta durante il lockdown, più della metà non ha ancora pagato, e quindi scattano adesso le ingiunzioni di pagamento. Continuano i controlli, e nelle giornate del 16 e 17 di gennaio ancora sensi unici pedonali in centro storico, questa volta a Pesaro. Tante però, dicevamo, sono le persone che ancora devono pagare, e non si sa nemmeno se poi pagheranno, perché insomma con i soldi che girano, pochi o nulla, insomma sarà difficile. Arrestati i fuggiaschi, invece siamo alla cronaca dalla pagina di Pesaro e Provincia, nascondevano cocaina. Parliamo di un fatto, vedete qui questa macchina dei carabinieri che sto cerchiando adesso con l'evidenziatore giallo, completamente distrutta davanti, che si è scontrata con un camion durante un inseguimento. In manette sono finiti due magrebini che l'altro ieri, tra Canavaccio e Bivio-Borzaga, siamo vicini a Urbino, hanno causato un incidente all'auto dei carabinieri. Intanto guardate qui questa fotografia che dice più di ogni altra cosa, com'è la situazione sulle nostre montagne. Neve fino a tre metri, praticamente sui monti. A Cagli chiudono le scuole. Ormai sulle cime del Catre, Nerone e Carpegna, come dicevo, la neve ha raggiunto quasi il metro e mezzo d'altezza, con cumuli nelle zone ventose anche di tre metri. Tanta la neve è caduta nella nottata tra sabato e domenica e che ha continuato a scendere copiosa anche nella giornata di ieri. E quindi dai 300 fino ai 500 metri la neve ha leggermente imbiancato anche i paesi lì sotto. Quindi abbiamo visto Cagli, dove la neve è caduta copiosa e dove il sindaco Alberto Alessandri ha deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi considerando che le basse temperature potrebbero produrre durante la notte quella che è appena trascorsa la formazione di strati di ghiaccio. Blackout e niente scuola per la neve. Qui titola il Corriere Adriatico con tanto di fotografie. Non sovraccarichiamo gli ospedali. La decisione del sindaco di Cagli per la giornata di oggi accantiano interruzioni anche di energie elettriche. Interventi dei Vigili del Fuoco che hanno soccorso degli automobilisti bloccati. Intanto la situazione è sotto controllo secondo la provincia e il servizio viabilità e quindi anche nella zona di Carpegna sono tutte zone di montagna insomma al momento non si segnalano particolari disagi. Sulla pagina di Fano del Corriere vogliamo sostenere la nuova proprietà per il rilancio delle terme di Carignano. L'assessore Fanesi con il sindaco ha già incontrato l'acquirente piano regolatore post-covid nuovi incontri con i cittadini. Poi vi ricordo alle ore 18 nella chiesa della Gran Madre di Dio a Fano a San Lazzaro la messa, la santa messa per ricordare Don Gabriele Belacchi a un anno dalla sua scomparsa. È già passato un anno. Andiamo adesso invece a vedere l'altra pagina la pagina 5 del Corriere Adriatico per seguire un po' le vicende di questa nuova compagnia aerea made in Marche. Ego Airways fa dietro front all'ultimo momento per colpa di Kairos Air. Il vettore di Piacenza cioè Ego Airways era pronto per un doppio collegamento quotidiano Falconara-Roma. Però l'amministratore delegato Bonecchi dice a questo punto visto che c'è questa nuova compagnia made in Marche facciamo marcia indietro non ci mettiamo contro la vostra compagnia di imprenditori locali. E mi pare che sia una decisione di buon senso. Questa è la fotografia di nuovo siamo sulla pagina di Vallefoglia della notizia di Crono che abbiamo visto poco fa l'apertura della pagina del Corriere in fuga all'alt per tre etti di cocaina arrestati un'ora dopo allo schianto in manette due magrebini presi a talacchio dai carabinieri la jeep dell'arma finita contro un autocarro. C'è stato anche un carabiniere ferito in questo scontro guarirà in 20 giorni. E adesso invece la pagina di Terre Roveresche dalla Valle del Cesano per il nuovo polo scolastico evitiamo ritardi burocratici il sindaco di Terre Roveresche Sebastianelli commissario dell'Opera annunciata la copertura della piscina mentre da Senigallia operazione Decoro in Centro Storico rifiuti ritirati prima che si aggiorno i mezzi dell'annezza urbana passeranno dalle 6 alle 8 anche per evitare rischi per i pedoni mentre alla casa di riposo di Ostra salgono a 11 i contagiati mentre ancora sulle pagine sportive siamo quasi in chiusura abbiamo detto dell'Alma che ha vinto il Fano che ha vinto fuori casa a Trieste contro la squadra del locale capolavoro Granata l'Alma conquista Trieste una rete di Ferrara e la paziente sapiente tattica di Mister Destro permettono l'impresa al Fano tre punti d'oro in chiave salvezza mentre quella di ieri è una giornata da dimenticare per la Vis che ha preso in casa quattro gol dal Mantua partita che è finita 4 a 1 incubo Vis in casa ne piglia quattro Mantua per nulla stratosferico passeggia nel pantano del Benelli l'anno riparte nel peggiore dei modi e Giorgio Guidelli dice ma per fortuna che giochiamo a porte chiuse mentre è davvero un anno da incorniciare almeno fino a questo momento per la VL Pesaro torna a rivedere le stelle di Final 8 la VL estende Brescia 98 a 88 e dopo 9 anni ricompare in Coppa Italia punteggio da montagne russe ma il successo va in porto e con questa notizia di sport chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie come sempre per essere stati con noi per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia e subito dopo riparte con la prima puntata dell'anno primo cittadino ospite il sindaco di Fano Massimo Seri grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti